Per un intervento, per un micro intervento, premesso che sulla materia ognuno al libro di pensare a quello che vuole, io sono sicuramente contrario a questa notte nuove, così come è presentata, ma è la delle sedere anni andata, perché c'è un po' di drogo, c'è una ragione rossa sui sugli ammendamenti. Quello che suggerisco alla presentatrice è di invitare il governo a garantire i cittadini rispetto a il sindaco di Fornano, o il sindaco di Roma, o il sindaco di Prada, o di Poccia, la vedo dura, ma che possa garantire i cittadini rispetto a segreti di Stato. Quindi, pur capendo la sua posizione, e il fatto di aver presentato questa mozione, la inviterei a inundare, a non invitare il sindaco e l'amministrazione urbana, ma invitare il governo a dare delle risposte a privaccio, solo etnicamente, perché noi possiamo sicuramente chiedere al perfetto che faccia una milione, ma il perfetto poi, se invece deve essere il governo, allora è il perfetto, non il sindaco.